Ritornano i nostri consigli di lettura con, tra le righe, appuntamento in libreria, quella voce di Padre Pio, a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Allora, partiamo come sempre con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina, a firma di un suo confratello, Padre Marcellino Iassenzaniro. E anche in questo libro, come negli altri di Padre Marcellino, sono riportati episodi di vita vissuta del Santo di Pietrelcina, anche perché il desiderio di conoscere chi è stato Padre Pio, chi è il Santo di Pietrelcina, e si ritrova ancora oggi forte in tutti coloro che non hanno avuto la grazia di conoscerlo. E quindi l'autore Padre Marcellino ha constatato, scrivendo questo libro di qualche anno fa, come le nostre città sono ancora ricche di notizie che riguardano Padre Pio e hanno sempre avuto l'attenzione di prendere nota di ciò che poteva dire del Santo, che aveva visto, sentito e toccato. Anche se adesso, ahimè, le memorie storiche che hanno avuto la grazia di vivere accanto a Padre Pio stanno quasi scomparendo piano piano per questioni anagrafiche. Quindi ci rimangono comunque le testimonianze, soprattutto quelle scritte, fotografiche e quelle video. Padre Marcellino di Asenza Nero e il Padre San Pio, sacerdote carismatico, un libro ricco di testimonianze. Ve ne leggo una, pagina 132, in cui racconta l'ultima bilocazione di Padre Pio, che si è verificata il pomeriggio precedente la sua dipartita per il cielo. Il Santo è andato a salutare a Genova il nostro confratello Padre Umile Bonzi, che si era infortunato per una caduta avvenuta nel 1968, il 29 agosto. Verso le 16.30 del 22 settembre del 1968, Suor Ludovica Maria Laguzzi si reca da Padre Umile per portargli una tazza di tè. La religiosa, nell'entrare nella stanza, avverte un forte profumo di fiori che inonda tutto l'ambiente. Non sapendo darsi una spiegazione, guarda il virtuoso frate. Questi, con naturalezza e spontaneità, dice, Padre Pio è venuto a salutarmi e a darmi l'ultimo addio. L'indomani, Padre Umile deve assolutamente recarsi al sorriso per vedere alcune cose e viene accompagnato in macchina da Maria Antonietta. Intanto, tutti in città parlano della morte di Padre Pio, appresa dai mezzi di comunicazione dell'epoca, radio, giornale. Lo fa anche l'autista con il nostro confratello, il quale non si mostra per niente meravigliato dell'avvenimento. Dice solo, ora sulla terra non ci resta che Dio. Poi, aprendo l'animo, parla della sua visita ricevuta da Padre Pio il giorno prima e aggiunge, Mi ha detto, arrivederci presto in cielo. Padre Umile lascia la terra il 9 febbraio del 1969, alcuni mesi dopo la morte di Padre Pio. Il padre conosceva bene il confratello Cappuccino, che era sceso più volte dalla Liguria a San Giovanni Rotondo. La cronistoria del convento ha noto un triduo dedicato da lui nell'aprile del 1949 per la festa del Papa. Tra i due confratelli c'era un'ottima comunione di spirito. Molto bella questa storia che ci ricorda, magari molti di noi, io stessa ignoravo questo episodio, racconta dell'ultima bilocazione di Padre Pio avvenuta a poche ore dalla sua morte, dalla sua nascita al cielo. Vi ricordo il libro perché all'interno di queste pagine troverete tante altre testimonianze firmate da Padre Marcellino Iassenzanino, il Padre Sampio, sacerdote carismatico, testimonianze appunto legate al Santo di Pietrelcina. La prefazione è quella di Padre Marco Ivan Rupnik, autore dei mosaici della Chiesa di Sampio da Pietrelcina. Il libro è firmato da un sacerdote che molti conoscono perché seguono le sue catechesi, hanno letto molti dei suoi libri. Stiamo parlando di Padre Fabio Rosini, l'arte di ricominciare, i sei giorni della creazione e l'inizio del discernimento, edizioni San Paolo. Se vuoi ricominciare devi tornare all'inizio e troverai quello che è vitale per te, in realtà troverai qualcun altro perché nessuno inizia da sé. Come scrive Don Fabio Rosini in questo libro, la vita è una serie infinita di inizi, talvolta ripartire può diventare davvero difficile. L'inizio contiene tutto, scrive Don Fabio, se tradisci l'inizio tradisci il tutto, se il tutto gira male è perché stai fuori dalla mappa dell'inizio. Se vuoi ricominciare devi tornare all'inizio e troverai quello che è vitale per te e in realtà troverai qualcun altro perché nessuno si inizia da sé. L'inizio è un dono di qualcuno, il mio noce profeta aveva ricevuto il suo inizio dal suo papa noce, dalla madre terra dell'orto marchigiano e dalle nostre manine. La vita infatti si riceve. Thomas Stearns Elliot ha detto Ciò che diciamo principio spesso è fine, è finire e cominciare. La fine è là onde partiamo. Parafrasando possiamo dire che nel principio c'è il fine, lo scopo nascosto nel genoma. Anche il Signore Gesù Cristo, infatti, mentre è principio di tutte le cose, è anche la strada per ritrovare la vita. E la cosa si chiama ricapitolazione, che vuol dire ridare il capo alle cose, ricominciarle da capo, ma avviciniamoci per bene. E poi comincia nel suo cammino appunto il suo percorso in questo libro, Anche perché c'è da dire che nella premessa Don Fabio Rosini racconta perché è nato questo libro, che ha cominciato a scrivere il 31 luglio del 2017. Scrive esattamente cinque anni fa e in questo giorno ho vissuto uno dei momenti più importanti della mia vita. Ero un mese esatto dal luminoso transito al cielo di Chiara Cordella Petrillo, Mentre nella mia vita andavano in onda notti dolorose ed ero in ospedale. Parte da una sua vicenda personale, molto personale, molto dolorosa, fatta di malattia, per scrivere questo libro e appunto raccontare come, che cosa significa l'arte di ricominciare, che non ricomincia da qualcosa ma ricomincia grazie a qualcuno. Don Fabio Rosini, edito dalla San Paolo, l'arte di ricominciare. Un seme per il futuro. Il seme è quello della preghiera piantato nel futuro, che è quello dei più piccoli. Perché in questo libro i due autori, che sono Ezio Aceti e Stefania Cagliani, Stefania Cagliani abbiamo avuto modo di incontrarla più volte anche in collegamento Skype, nell'altro tra le righe, quello in cui incontriamo l'autore di un libro, e il loro intento è quello di offrire degli spunti di riflessione ai genitori, agli educatori, per cercare di riscoprire la bellezza del pregare e vivere con Gesù. Una bellezza che davvero va condivisa con i bambini, che devono essere avviati ad un rapporto con Gesù che è prezioso e unico. E questo compito spetta ad ogni educatore, quindi tracciare, indicare e orientare il bambino verso Gesù. Perché lo stesso Gesù lo riportiamo, lo leggiamo in Marco, nel Vangelo di Marco, disse ai discepoli lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Un seme per il futuro, educare la preghiera oggi, edito dalla San Paolo, appunto Ezio Aceti, Stefania Cagliani. Nella premessa, che è molto lunga, e soprattutto si trova a metà al libro, scrivono gli autori, i bambini sanno in campo religioso che nessuno ha detto loro, i bambini sono capaci di relazionarsi con il trascendente, i bambini hanno un innato slancio verso la preghiera. Quando allora si avvicina il bambino a Dio, non si va contro la sua natura, il suo interesse, non lo si forza in qualcosa che gli è estraneo, non lo si indirizza verso un aspetto della vita che gli è lontano o di scarso coinvolgimento. Al contrario, il bambino è molto interessato, rivolge spesso domande e si fa vie vie idee chiare dinamiche su di esso, comunica con lo spirituale, col quale si sente in relazione, pone questioni in modo del tutto spontaneo e naturale, e si interroga in modo serio e puntuale dimostrando vivace curiosità nella ricerca del senso e del significato delle cose nelle relazioni tra esseri umani e tra loro il creato nella causa di accadimenti naturali e artificiali. Certamente, completano e concludono i due autori in questa premessa, il senso religioso che accompagna precocemente il bambino è sottoposto e influenzato da fattori che incidono nel loro sviluppo, e questo è chiaro appunto se si è educatori e insegnanti. C'è anche un capitolo dedicato alle preghiere, alcune preghiere, dove pregare, e poi l'ultima parte dedicata anche a esperienze di bambini in preghiera. Questa è una parte molto bella che vi consiglio anche di leggere, e poi ci sono le conclusioni, anche in questo caso affidate ai due autori, che sono due psicologi molto bravi e anche attenti a questi aspetti. Ezio Aceti, Stefania Cagliani, Un seme per il futuro, Educare alla preghiera, oggi San Paolo, edizioni. E' uno degli autori di storie più interessanti, anche più simpatici, perché ci piace, e lo faccio spesso, concludere le puntate di Tra le righe con una storia per l'anima, perché fanno davvero bene al cuore, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo. Il libro si intitola L'importante è la rosa, firmato da Bruno Ferrero, per la collana Piccole Storie per l'anima, edito dalla LDC, un libretto che racconta piccole storie con semplicità. Vi leggo una storia presa così a caso, perché potete anche non seguire l'ordine cronologico. Il pranzo della domenica. Dalla cucina, come al solito, la donna disse, pronto. Il marito che leggeva il giornale e i due figli che guardavano la televisione e ascoltavano musica, si misero rumorosamente a tavolo e brandirono impazientemente le posate. La donna arrivò, ma invece delle solite profumate portate, mise al centro tavola un mucchietto di fieno. Ma, disse ai tuoi uomini, ma che sei diventata matta? La donna li guardò e rispose Serafica, beh, come avrei potuto immaginare che ve ne sareste accorti? Cucino per voi da vent'anni, e in tutto questo tempo non ho mai sentito da parte vostra una parola che mi facesse capire che non stavate masticando fieno. Questa, come dire, è una storia che potrebbero prendere a spunto tante mamme, no? Potrebbero proprio raccontarla ai loro figli la domenica. E poi aggiunge Bruno Ferrero, Per festeggiare il decimo anniversario del matrimonio, una donna chiese alla rivista letta dal marito di pubblicare un messaggio per lui. Eccolo. Grazie, grazie amore mio, perché se oggi sono una donna, una moglie, una mamma felice, lo devo a te. Grazie perché mi fai sentire sempre e dovunque l'unica donna al mondo per te. Grazie perché mi fai sentire bella. Grazie perché mi fai sentire importante. Grazie per i tuoi sguardi d'amore quando stiamo in mezzo alla gente. Grazie per i tuoi ti amo lasciati qua e là e dove meno me l'aspetto. Grazie perché ci sei e grazie per questi splendidi anni d'amore. Abbiamo un potere immenso, scrive Bruno Ferrero, decidere la felicità o l'infelicità delle persone che ci stanno accanto. Di solito basta un grazie detto o dimenticato. Bene, con queste belle parole vi lasciamo alle vostre consuete attività quotidiane. Grazie per la vostra attenzione. Se volete rivedere le puntate di Tra le righe, queste e anche quelle già andate in onda, vi rimando al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie ancora e alla prossima puntata. Grazie. 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 Grazie.